Una media di 834 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, 8 rifiuti ogni passo, che supera ampiamente il valore soglia stabilito a livello europeo per considerare una spiaggia in buono stato ambientale, cioè meno di 20 rifiuti abbandonati ogni 100 metri lineari di costa. E' quanto emerso dall'indagine Beach Liter 2022, condotta da Legambiente, che ha censito un totale di 44.882 rifiuti in un'area di 271.500 metri quadri. I dati dell'indagine sono stati raccolti su 53 spiagge di 14 regioni, Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Friuli, Venezia, Giulia, Marche, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Veneto. La plastica si attesta essere ancora una volta il materiale più comune ritrovato, ben l'84% degli oggetti rinvenuti, 37.604 sui 44.882 totali. Seguita da 2.004 oggetti di metallo, 4,5%, 1920 di carta cartone, 4,3% e 1566 di vetro ceramiche, 3,5%. Inoltre, ben il 46% di tutti i rifiuti monitorati nell'indagine riguarda i prodotti USA e GET, alcuni dei quali messi al bando da direttiva SUP, bastoncini cotonati, cannucce e agitatori per cocktail, contenitori per alimenti per il consumo immediato e l'asporto.